Allora, Noemi è una partita difficile da decifrare con tanti capovolgimenti di fronte, come la descriveresti? Mazzesca, perché veramente il primo set è dominato, il secondo set è dove ci hanno recuperato. E' una battaglia combattuta, sapevamo che sarebbe stato combattuto perché Pinerola è piaciuta molto, ha cambiato molto ed è molto più competitiva di quanto l'anno scorso. Giocare qua non è mai semplice, quindi sono contenta perché comunque abbiamo dato, secondo me, quello che potremmo dare, siamo state brave, non è stato facile, però brave noi. Dopo un terzo set perso così come avete fatto a reagire? Siamo state brave a non mollare, quindi veramente, quella è stata un po' la chiave in volta, non mollare e continuare a giocare. Tante volte invece ci spegnevamo, quindi questa sicuramente è una nota positiva di questa partita, non arrenderci. Ecco, sia nel quarto sia nel quinto set ci siamo un po' complicati la vita nel finale, però. E volevamo creare un po' di sospazio per il pubblico, quindi abbiamo cercato un po' di fare queste cose qua, non sai, scherzo. Loro comunque hanno una battuta veramente aggressiva, ci hanno messo le squadre, bravi loro, però devo dire che alla fine siamo riusciti a uscirne bene.